La creazione di un prodotto turistico condiviso tra la Toscana e le altre regioni dell'Italia centrale, incentrato sui cammini, sarà il tema del convegno organizzato il 18 e 19 ottobre da Regione Toscana e Associazione Europea delle Vie Francigene all'Abbazia di Spineto a Sarteano. Cinque cammini interregionali sul tavolo, via Lauretana, via degli Dei, cammini di Francesco, via Matildica del Volto Santo e via Clodia. I rappresentanti di Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche e Umbria ne parleranno con il Ministro dell'Agricoltura e del Turismo Gianmarco Centinaio che ha confermato la sua presenza. L'idea è quella di individuare delle priorità su queste scommettere, portare al sistema sul modello della Francigene, sulle esperienze che abbiamo condiviso con le altre regioni, un percorso di consolidamento, valorizzazione, accoglienza che va progressivamente implementata. Quattro gli ambiti considerati per ogni cammino, manutenzione, accoglienza, promozione, governance e l'uso di strumenti tecnologici ad hoc e smartphone favoriranno la coprogettazione e lo scambio di idee in diretta. Quindi quello che dobbiamo fare è andare a sintesi di tutte queste anime che compongono i cammini e soprattutto di trasferire quello che è la buona pratica della via Francigene, itinerario culturale del Consiglio d'Europa, ai cammini interregionali e regionali che passano per queste regioni. Le proposte formulate nel convegno confluiranno nella carta di Spineto, un documento di sintesi con le linee guida condivise sui cammini che solo in Toscana traggono ogni anno 100.000 visitatori.